Ciao a tutti e benvenuti a questo secondo episodio con l'apparecchio per i denti oggi vi voglio parlare della seconda visita dal dentista in cui mi hanno installato l'apparecchio sopra oltre che l'apparecchio sotto che aveva già installato nell'altra seduta come funziona la seconda seduta? Esattamente uguale alla prima quindi vengono incollati questi ganci prima di tutto e poi viene messo questo filo che va a tirare i denti procedura semplice e indolore, niente di particolarmente degno di nota tuttavia nei primi giorni dopo aver messo questo apparecchio per i denti i nostri denti cominceranno a reagire nel mio caso ho avuto un po' di dolore che ho curato con un semplicissimo ibuprofene inoltre un'altra cosa che vi consiglio di fare è di tenere le labbra sempre in forma con per esempio un labello, nel mio caso ho usato un labello repair che è un po' più forte perché quello che succede con l'apparecchio è che questi dentini metallici, cioè questi ganci vanno a battere ogni volta che parliamo o mastichiamo contro le labbra che quindi potrebbero screpolarsi e quindi è importante tenerle in forma poi comunque nel giro di tre giorni, esattamente come era successo per l'apparecchio sotto tutto a posto, il dolore è rientrato e ora non ho più problemi vi voglio fare una considerazione sulla parte estetica dell'apparecchio ora so che molte persone hanno paura di mettere l'apparecchio proprio perché c'è questa situazione in cui ci sono questi ferri nei denti che possono risultare antiestetici però per quanto mi riguarda penso che non sia un grosso problema nel senso che la scelta è tra avere i denti storti oppure avere i denti storti con l'apparecchio davanti e io penso che i denti storti con l'apparecchio siano un po' più piacevoli nel senso che la persona che ci guarda sa che abbiamo l'apparecchio perché stiamo sistemando i denti e non che abbiamo i denti storti perché non abbiamo messo l'apparecchio quindi per quanto mi riguarda trovo più estetica la presenza dell'apparecchio ovviamente il viso è molto più bello senza l'apparecchio e con i denti dritti ma a questo obiettivo ci arriveremo nel corso dei mesi questo ve lo ricordo il sistema Fast Prices che quindi agisce sui denti a sinistra, a destra, sopra, sotto, avanti e indietro contemporaneamente quindi permette di ridurre drasticamente il numero di sedute e con meno sedute si ha un risultato più veloce e anche se risparmiano dei soldi, perché no? Grazie, questo video si conclude qui come al solito se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace lasciate un commento oppure iscrivetevi al canale anche per seguire i prossimi video che usciranno noi ci vediamo alla prossima, ciao!